Sono convinto e contento di sostenere con la lista Movimento per Biceglie la candidatura a sindaco della città di Francesco Spina, un uomo che con la sua esperienza oggi parla di programmi che si possono concretizzare e non divane promesse. A dirlo è il candidato al Consiglio Comunale per la lista Movimento per Biceglie, il dottor Pasquale Musci. Si pensa che una frase ad effetto possa ottenere risultati. Voglio fare un semplice esempio. Dire al primo punto del proprio programma entro l'anno aboliamo l'Imu mi sembra una promessa non proprio realizzabile se poi stiamo vedendo che a livello di governo centrale soltanto la rata di giugno dell'Imu è stata per il momento accantonata. Quindi mi piace e sono convinto e contento di sostenere la candidatura a spina a sindaco perché lo vedo persona molto determinata e molto concreta. La città di Biceglie oggi di che cosa ha bisogno? La città di Biceglie come tutto il paese, come tutta l'Italia ha bisogno di ritrovare prima di tutto una serenità. Una serenità e lo si sta tentando a livello centrale. Noi stiamo vedendo che partiti che fino a qualche giorno prima delle votazioni si facevano una lotta alquanto spietata ora stanno cercando di trovare un'intesa nell'interesse del paese. Io penso che a Biceglie bisognerebbe tentare la stessa operazione perché a Biceglie ha bisogno di una ripresa economica e ha bisogno di trovare un sistema di vita che sia più sereno, che sia più tranquillo e quindi studiare tutta una serie di iniziative che portino a una rinascita economica perché se non c'è tranquillità economica è difficile che ci possa essere anche una tranquillità sociale. Questo penso che sia il punto fondamentale. Ma ci sono tanti altri aspetti, tante altre cose che si possono realizzare ripeto, in un clima di serenità con la maggioranza che governa e con la minoranza che fa la giusta opposizione ma non un'opposizione preconcetta ma un'opposizione che sia costruttiva.